c'è sta uno tirchio ma tirchio che si presenta all'anagrafe gli fa buongiorno dice vorrei cambiare il nome di mia moglie la cura d'anagrafe lo guarda e gli fa e perché non è venuta la diretta interessata dice perché mia moglie è morta dice scusa e che vuoi cambiare il nome dopo la morte dice sì perché ho trovato una lapide usata costa poco ma mi ritorna il nome